In questi giorni se dovete andare a fare la spesa, decidete di andare domani, sabato 30 novembre, perché c'è la colletta alimentare. Vuol dire un'occasione non solo di fare la spesa per sé, ma di pensare a chi magari in questo momento sta attraversando una difficoltà a cui noi possiamo pensare in un modo concreto. Quindi sostenendo questa iniziativa straordinaria, io qua accanto a me il Presidente, tutta quanta la Giunta, noi faremo la nostra parte da cittadini e da cittadine, come spero vorrete fare voi cittadini piemontesi. Il miglior modo di avvicinarci al Natale, che è un momento di festa e di gioia, è di pensare a rendere un po' felici anche quelli che in questo momento lo sono un po' di meno. Buona colletta alimentare, sabato 30 novembre, in tutti i centri convenzionati del nostro Piemonte e di tutta Italia.